Comet raddoppia Cesena con un secondo punto vendita in via Romagna 85 che va ad aggiungersi allo storico negozio di via Emilia Ponente 1445, un'importante inaugurazione che conferma la volontà di Comet di essere un marchio di riferimento per il territorio cesenate e di essere sempre più vicina ai suoi consumatori. Dopo una lunga esperienza di oltre dieci anni abbiamo aperto il primo punto vendita nel 2004 a Cesena, abbiamo deciso, abbiamo avuto un'occasione, abbiamo deciso di essere ancora più vicini alla città di Cesena inaugurando il secondo punto vendita, raddoppiando la nostra presenza sul territorio. Avvicinandoci a via Madonna dello Schioppo dovevamo già un punto vendita di materiale elettrico e il raddoppio avviene in via Romagna 85. E quale obiettivo vi ponete con questo nuovo punto vendita? Di essere più vicini alla città di Cesena, di essere più vicini ai consumatori di Cesena con quelle che sono le caratteristiche peculiari della nostra insegna che sono rappresentate nel nostro payoff, Comet come te, quindi di essere molto vicini, di essere di supporto, di guidare il consumatore, di seguire il consumatore, di assistere il consumatore nel suo processo d'acquisto. E direttore cosa può raccontarci di questo negozio? Quali le caratteristiche, i punti di forza? È un negozio che ha come suo obiettivo principale quello di rappresentare lo stato dell'arte e della tecnologia, quindi sono rappresentate tutte le nostre tecnologie, il nostro assortimento. Ha una caratteristica importantissima che è quella di una fortissima integrazione con il mondo virtuale, quindi con la nostra piattaforma di e-commerce che ci consente di andare oltre i confini di questo punto vendita, che è un punto vendita comunque con una superficie di oltre mille metri quadri. Ha alcune caratteristiche peculiari di cui ci siamo veramente molto orgogliosi. La prima è che dal punto di vista energetico è un punto vendita completamente autonomo con un importante impianto fotovoltaico. La seconda caratteristica quasi unica, pensiamo, nel settore, proprio per rendere ancora più sicuro il processo di acquisto del consumatore, vi è in azione un impianto di sanificazione proprio per rendere l'ambiente il più sicuro possibile nel processo di acquisto. Cosa vi differenzia dalle altre caziene di elettronica? Su cosa puntate? Un valore distintivo della nostra insegna è una squadra, un team di lavoro. Abbiamo iniziato su questo punto vendita con oltre 20 risorse che seguono il processo di acquisto del consumatore, con competenza, con grande senso di accoglienza, di aiuto, di assistenza, proprio perché pensiamo che in questo momento sempre di più il prodotto debba essere integrato da tutta una serie di servizi che solo attraverso un team forte orientato alla qualità erogata nei confronti del consumatore possa avere successo. E per concludere, direttore, cosa si sente di dire a tutti i cesenati? Vogliamo continuarvi a voler bene, vi aspettiamo, metteteci alla prova, abbiamo tutta una serie, in modo particolare in questo momento sui due punti 20, di offerte esclusive per voi. Grazie a tutti.